Nuovo impulso alle attività investigative e la riapertura del caso per fare piena luce sui depistaggi e le coperture che hanno favorito gli assassini di nostro fratello. È la richiesta di Dario e Massimo Vassallo che tornano a far sentire la propria voce per il delitto del sindaco pescatore di Pollica. Da quel 5 settembre 2010 tante le ipotesi avanzate, ancora di più le polemiche, ma a mancare è il colpevole o i colpevoli dell'omicidio. Anche per questo attraverso il proprio legale Antonio Ingroia, i familiari di Angelo Vassallo hanno presentato un'istanza al tribunale di Salerno per chiedere di riaprire il caso e avviare nuove indagini. Non conoscendo, per via del segreto investigativo, lo stato del procedimento della procura, abbiamo depositato la richiesta, hanno fatto sapere Dario e Massimo Vassallo. I fratelli del sindaco pescatore ribadiscono fiducia nell'operato della magistratura e si dicono certi che la procura di Salerno farà di tutto affinché la verità venga alla luce. Ma dopo più di dieci anni non siamo più disposti ad aspettare, vogliamo verità e giustizia, il monito della famiglia Vassallo. E intanto, proprio in queste ore a Pollica, è atteso il sopralluogo della Commissione parlamentare antimafia che, guidata dal presidente Nicola Morra, farà visita proprio sui luoghi in cui venne assassinato il sindaco pescatore.